bentornati amici in questo nuovo episodio di pomodori reviews io sono il vostro conduttore preferito bondo e oggi ho un pomodoro estremamente speciale e molto molto raro questo pomodoro cresce solo nei pressi di Canicati in Sicilia e ha il potere cioè non il potere ha la proprietà naturalissima di teletrasportare chi lo mangia in varie parti del mondo casuali ovviamente nessuno è ancora riuscito a coltivare una specie di questo pomodoro che ti teletrasporta in un posto che sai già quindi è sempre casuale ma nessuno ha mai fatto un trattato una recensione o quel che l'è per dire che sapore ha questo pomodoro quindi io adesso farò proprio questo vi dirò che sapore ha questo pomodoro quindi bando alle ciance andiamo a mangiarlo ciao 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 1 su 10